No raga scusate, di cosa stiamo parlando? Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Se siete di nuovi iscritti, grazie di cuore per aver scelto di entrare a far parte di questa bellissima community Se invece passate di qui per la prima volta, mi presento, mi chiamo Amber, sono la Makeup Artist E qui sul mio canale mi vedrete parlare a dismisura di make up benessere e soprattutto proclamare il self love Con il video di oggi diamo il via a un nuovo format, ovvero basi low cost e dove trovarle No, in realtà non ho ancora trovato un titolo per questo format, ma vi spiego in cosa consiste Voglio realizzare delle basi viso utilizzando solo prodotti low cost di un determinato brand E fare un bel stress test per tutta la giornata E il primo brand protagonista è Astra Makeup Allora, questo è il pacco che mi è arrivato l'altro giorno Ho ordinato direttamente sul sito ufficiale di Astra, è arrivato in circa 2-3 giorni E l'imballaggio era veramente perfetto Sapete che io guardo anche queste cose perché quando ordino dei prodotti voglio che mi arrivino possibilmente tutti integri E posso dirvi che ogni prodotto era incartato singolarmente, quindi imballaggio assolutamente top Ma vediamo cosa ho acquistato Iniziamo subito con la realizzazione del nostro make up E qui ho un prodotto della nuova collezione che non potevo non provare io qui dalla pelle secca E sto parlando del nuovo Ritual Gold Serum Oil Base sublimatrice illuminante contenente oro 24 carati e rosa moschetta Moschetta? Moschetta? C'è scritto di shakerarlo prima dell'uso È bellissimo anche da vedere E vado ad applicarne qualche goccia direttamente sul palmo della mano Direi che 4 gocce vanno più che bene Vado a... Mmm... Ha un buonissimo profumo Vado a scaldare il prodotto come avete visto direttamente sul palmo della mano E poi vado a tamponarlo Ha una profumazione buonissima Non è molto forte Anzi è molto piacevole E... Sa di estate L'effetto illuminante direi che lo abbiamo E mi piace tantissimo perché non vi dà un effetto unto sulla pelle Va ad assorbirsi molto bene La sento rimpolpata E super soffice Mi gusta particolarmente Passiamo al prossimo prodotto Ho preso il The Universal Foundation Questo fondotinta mi ha incuriosito da subito Appena avevano fatto il lancio Oltretutto ho apprezzato infinitamente il fatto che Astra abbia fatto un range di colorazioni veramente molto ampio Questo è un passo avanti per un brand italiano davvero molto grande Sono molto contenta di averli supportati È un fondotinta che ho preso nella colorazione 02 W E viene descritto come un fondotinta effetto pelle nuda E sapete quanto io sia fan di questa tipologia di prodotti Dovrebbe essere super sottile Dovrebbe essere super sottile quindi molto comodo da portare anche durante la giornata Non dovrebbe andare a seccare la pelle perché ha questa tecnologia Oxygen Complex Quindi natural glow finish Se veramente sarà così potrebbe essere il fondotinta low cost della vita Proviamolo subito Allora vado ad applicare il fondotinta su una basetta Pulito c'è una puzza di alcol assurda Perché voglio vedere la texture Cioè la consistenza del prodotto Ok Il prodotto come vedete è cremoso Non sta colando quindi non è molto liquido Oggi utilizzo un pennello un po' più ampio per il fondotinta Vado a prelevarlo E lo applico sul viso E' chiaro Ho sbagliato il colore Potevo farla giusta secondo voi? No Non teniamo conto della colorazione perché Comprare online e scegliere il fondotinta Come sapete è sempre un problema per me Terrò conto di quello che effettivamente è la resa del prodotto Poi se mi piace non escludo che andrò ad acquistare anche una tonalità un po' più scura Allora si va a stendere molto facilmente Si fonde molto bene con la pelle Questo è il risultato con l'applicazione di un pump È molto sottile È bello luminoso Però non è andato a coprire le mie macchiette Questo capillare che ho qui Di conseguenza voglio provare a stratificare il prodotto per vedere come lavora Se lavora bene, se continua a fondersi con la pelle o se rimane in superficie Quindi riapplichiamo A parte che sembro zio fester in questo momento Però in video sembra molto più chiaro il fondotinta rispetto a come è nella realtà Il finish è pazzesco Guardate che bello Guardate come è luminoso Vi confermo che andando a mettere un altro pump di prodotto Quindi in totale ho messo due pump Riesco ad ottenere un po' più di coprenza Ma comunque la coprenza la definirei medio-bassa Più bassa che media Risulta dewy sulla pelle come vedete Quindi se non amate l'effetto un po' appiccicaticcio del fondotinta Sicuramente dovete poi spolverarci un po' di cipria sopra Sicuramente adatto a pelli secche E sicuramente anche un buon fondotinta Perché è un po' più avanti con l'età Quindi un ottimo prodotto anche anti-age Ma direi di andare avanti Passiamo al correttore Il Long Stay Concealer nella tonalità 02 Questo già lo avevo Purtroppo lo 01 per me è troppo rosato Troppo chiaro andrebbe a evidenziare le mie occhiaie Lo 02 per me è troppo scuro È un correttore che io utilizzo tranquillamente Guardate com'è troppo scuro per me Ma vabbè adesso lo facciamo lavorare noi bene È un correttore che utilizzo senza mettere al di sopra la cipria Perché è un prodotto autosettante Se avete una pelle mista grassa Vi consiglio comunque di andare a mettere un velo di cipria Ma su una pelle secca Se avete magari un contorno occhi Un po' segnato Applicate poco prodotto e non andate ad incipriarlo Dura anche bene nel corso delle ore Non mi fa pieghe Non va a separarsi il prodotto Quindi per qualche costa Devo dire che mi ha sorpreso davvero tanto Dovrebbe esserci una shade di transizione Tra l'1 e la 2 Sicuramente un 1.5 che sarebbe il mio colore perfetto È un po' come con le scarpe Non so voi ma io da piccola Da piccolina ero sempre quella dei mezzi numeri Che non c'erano mai da nessuna parte Io avevo sempre il 32.5 Il 33.5 Cioè o il 31 o il 32 deciditi Il correttore ha questo effetto semi matt E onestamente io non vado ad applicare cipria Perché nel corso delle ore va ad asciugarsi Quindi elimina l'effetto lucido nel contorno occhi Poi se voi avete necessità potete andare ad applicarla Come vedete la coprenza è una coprenza media Secondo me è una buona coprenza E anche andando a stratificare il prodotto Io ho fatto due passati di correttore Comunque rimane molto sottile Non va a segnarvi Andiamo avanti con la palette viso Io ho preso la tonalità Pink Romance Una palettina per contour, blush e highlighting Che sono molto curiosa di provare Perché ho sentito parlare molto bene di queste polveri Iniziamo a scolpire il nostro viso Prendiamo un po' di terra E vediamo un po' come si comportano Io non sono andata ad incipriare il viso Guardate, vi faccio vedere Non ho settato la mia base e le polveri Guardate come stanno lavorando bene Wow! Non stanno assolutamente facendo macchia Andiamo a scolpirci come delle piccole statue di cera Prendo un po' di blush Io lo scarico sempre nel dorso della mano Lo sapete Carino Molto carino Queste polveri sono davvero sottili E devo dirvi che non me l'aspettavo Non me l'aspettavo, sono onesta Wow! Bello Mi piace molto il colore Prendo l'illuminante Io utilizzo sempre pennelli così un po' più grandi Porto il prodotto nel palmo della mano E andiamo Ovviamente poi vi farò vedere tutto dal cellulare Con la luce naturale Perché voglio farvi vedere la resa della base Senza queste luci da studio Che so che a volte possono ingannare Andiamo sul nostro nasino Così Vogliamo dare spazio anche a lui Come mascara utilizzo questo che già avevo di Astra Della linea Pure Beauty Pure Beauty Il Volumizing Mascara Eccomi tornata Questo è l'effetto del mascara Adesso sulle labbra Vado giusto ad applicare Un po' di lip oil Raga Questo lip oil è la vita Purtroppo era esaurito Sul sito E davvero ne ho pochissimo E' super super idratante Poi dà questo effetto proprio juicy Alle labbra Ve le ripara In una maniera assurda Passiamo adesso all'ultimo prodotto Anche lui è dell'ultima collezione E' il Ritual Extreme Fixing Spray Quindi andiamo a fissare la nostra base viso Così da vedere se riesce a durare per tutta la giornata E vediamo come il getto Ok Andiamo Ho sempre paura di mettermi il setting spray Andiamo Ok Allora il getto Sicuramente non è tra i più delicati Non è vaporizzato E' un po' Così a goccioline Che succede Che sta succedendo Ti giuro che non è preparata No raga scusate Perché mi ho fatto tutti questi puntini in faccia Ma facciamo una cosa Noi proseguiamo U U U Ok La silica all'interno della formula Galantisce l'assorbimento del sebo in eccesso Non sapevo che avesse silica all'interno Ok Agitare molto bene prima dell'uso Questo è il risultato finale della base Devo essere onesta Mi piace davvero davvero tanto La trovo bella luminosa e naturale come piace a me Attualmente sono le 13 e 36 Vi faccio vedere Andrò a tenere questo make up più a lungo possibile Io raga sono al computer Sto editando il video E questa è la situazione della base Ci sta mantenendo molto bene Non sento la pelle affatto secca Non sento fastidi di nessun tipo Questa è la situazione del contorno occhi Devo dire molto buona Eccomi qui raga per l'ultimo check Sono le 19 e 30 Sto per andare a struccarmi perché sono tanchissima Volevo farvi vedere la base Devo dire che è durata molto bene Poi ho iniziato di toccarmi il viso Guardavo anche il contorno occhi Qui è leggermente segnato Questa parte invece va molto bene È andato un po' via E come vedete è un po' scuro il contorno occhi Però devo dire che per essere dei prodotti low cost Mi soddisfa molto la durata del make up Sicuramente prodotti migliori Il fondotinta La palette di polvere Mi è piaciuta tantissimo E il primer in olio Che ha reso la base molto morbida Anche nel corso della serata Bene raga per questo video è tutto Io spero tantissimo che questo video Possa esservi utile per i posti prossimi Non sto parlando in italiano E mi raccomando Se volete vedere altri marchi low cost in azione Fatemelo sapere qui sotto nei commenti E lasciandomi un bel like Io vi ringrazio infinitamente Per essere arrivati alla conclusione di questo video Mi raccomando Vi aspetto anche su Instagram Dove vi terrò aggiornate su tutti questi prodotti Mi trovate come Ambra Jess Makeup E spero tantissimo di rivedervi Anche nel prossimo video Mi raccomando Se volete supportarmi Iscrivetevi al canale Lasciatemi un bel like E attivate la campanella Io per il momento vi saluto E vi mando un grosso Grossissimo bacio See you soon Ciao